Quanto dura un pin su Pinterest? Io dico sempre che i pin su Pinterest durano anni e oggi voglio farti vedere alcuni miei pin. Perché non ti posso far vedere quelli delle mie clienti? Perché loro hanno un profilo nuovo, è meno di un anno tante che lo stanno usando, quindi non posso farvi vedere da quanti anni girano i loro pin, ma posso farvi vedere da quanti anni girano i miei. Quindi quando parlo di aggiungere Pinterest alla strategia social mi vengono fatte alcune obiezioni come non ho tempo di far crescere un nuovo profilo, non ho tempo di fare contenuti anche per Pinterest. E ci sta perché lavorare sui social prende tantissimo tempo, il problema è che lavorare sui social prende tantissimo tempo, ma i contenuti durano anche poco tempo, mentre su Pinterest i contenuti durano veramente tanto, tanto, tanto tempo. Questo pin l'ho pubblicato al Salone del Camper nel settembre 2021, comunque c'è anche scritto, ed è sempre tra i primi 5 pin nella mia classifica. Sta adesso avendo qualche piccolo calo, vedi le cifre in rosso, ma comunque è sempre tra i primi in classifica. Questo pin, rido perché fa parte della mia bacheca humor dove metto un sacco di stupidaggini, è del 2016 e nell'ultimo mese, come vedete, ha ripreso ad avere interazioni. Quindi quanto durano i contenuti su Pinterest? Tanto, tanto tempo, quindi si parla anche di anni. Ovviamente ci vuole un profilo ben ottimizzato, un buon uso delle parole chiave, una costanza, una buona strategia di pubblicazione, ma i risultati ci sono. E quello humor mi faceva tanto ridere, quindi l'ho messo, non perché mi stia portando traffico, ma perché comunque nell'ultimo mese ha ripreso a girare ed è un pin veramente vecchissimo. Ciao, sono Francesca, sono una Pinterest coach e ti aiuto a portare traffico al tuo shop o ai tuoi canali per monetizzare tramite Pinterest.